Ciao, mi chiamo Samerina Della Torre, frequento l'Istituto di Moda in Visascivales con il corso di Sartoria Professionale. Ho scelto di fare questa scuola soprattutto perché da quando sono piccola che amo cucirmi dei vestiti e l'emozione che provi quando indosso un vestito fatto da te è una cosa unica soprattutto anche quando crei dei vestiti per qualcun altro e vederli che vanno anche solo a fare la spesa con un vestito fatto da te è un'emozione unica. Ho scelto di fare proprio questa scuola perché mi sono informata su tutte le scuole che c'erano nella zona e questa è l'unica che a fine corso ti permette di fare un esame con un diploma che è a livello internazionale e ha un'importanza internazionale. Grazie